Sua madre le ripeteva Serena ricordati che non siamo nate puttane mentre Dino Risi sul set di Teresa sosteneva se non sei puttana e anche bugiarda non puoi fare l'attrice Chi aveva ragione dei due? Lei a chi ha dato più retta? Io purtroppo ho dato retta a mia mamma Se ne è pentita? Sì Perché? Perché nella vita bisogna essere anche un po' puttane un po' bugiarde per andare avanti bisogna essere un po' puttane sì, assolutamente Lei comunque ha detto se mi fossero arrivate proposte veramente indecenti le avrei accettate più sono indecenti, più mi piacciono Peccato, arrivando solo rubetta quindi Beh ma io ho avuto anche proposte indecenti proposte che avrei potuto invece no Lei dice una, una indecente vera? Beh, aver ricevuto un Ferrari sotto casa con un fiocco al mio compleanno e avrei potuto dire sì, ok, dammi le chiavi E invece? E invece ho detto no, che paura ma chi è questo? No, per carità ma chi se ne frega dammi le chiavi che mi ne vado lei ha detto non ricordo una persona che non mi sia saltata addosso addirittura è vero? Ah sì? Non mi chiede i nomi perché i nomi ce ne sono talmente tanti che ci vorrebbe un'antologia Cosa le piace del successo? Tutto È stato più difficile gestire il successo quando è arrivato tutto insieme o quando invece ha cominciato in qualche modo a scemare? È stato più difficile gestire il fallimento Di certo un momento complicato per la sua carriera è stata quando lei fu arrestata agli arresti domiciliari un arresto ingiusto per cui fu prosciolta e poi addirittura risarcita per detenzione e spaccio di cocaina C'erano solo dei tortellini in casa Senta ma lì in quel momento ecco è finita un po' la sua carriera in quel momento? Beh tutte noi abbiamo avuto dei problemi con la giustizia guardiamo Sofia Lore infatti bravo Sì abbiamo avuto tutti i problemi con la giustizia secondo me le star hanno proprio problemi con la giustizia però mi faccia dei musi strani di altre interviste che ho visto Senta comunque lei ammise che diciamo l'acquisto di stupefacenti era per uso personale Forza l'ho dovuto ammettere se no non mi davano non mi bloccavano gli arresti domiciliari Però il suo nome da qualcuno è stata fatta quello che le voglio chiedere è stata tradita dalle persone che frequentava Un cretino che è passato sotto casa mia è stato fermato ho detto qui ci abita Serena Grandi io la conosco bene Purtroppo Roma è un posto dove tu se dai un po' di confidenza a una persona subito fanno il tuo nome C'era un ambiente che è stato colpito da quell'operazione dalle forze dell'ordine qualcuno ha il suo nome al di là di quello che passava sotto casa nel senso che è stato un processo Ci sono nomi molto più importanti di me immagino ma dico ha frequentato persone sbagliate vogliamo metterla così Il problema è che non puoi chiedere la fedina penale a chi incontri Lo spaccio è un reato è ben altra cosa però lei ha detto la cocaina ma chi è che non ne ha fatto uso Negli anni 90 chi non ha frequentato una casa dove si usava cocaina Ecco parlando anche di lei in prima persona allora quello che le voglio chiedere in quella fase era un momento per lei di svago o un po' di dipendenza in una fase della sua vita c'è stata? No Era sbago per lei Avevo un figlio piccolo e dovevo pensare a lui ero una ragazza madre diciamo perché il padre non se ne occupava non avevo tempo per le sostanze io odio tutto quello che è polveri Vabbè l'ha usata l'ha ammesso quindi diciamo era una cosa L'ho dovuto ammettere perché l'avvocato mi ha chiesto di doverlo ammettere C'erano dei nomi molto più importanti che hanno dovuto ammettere miei colleghe anche perché no non si possono dire nomi non mi piace fare i nomi soprattutto di miei colleghe ma comunque non sono mai stata una tossica quindi sono lontano dalle polveri Diciamo quello per lei è stato un periodo Ormai era era un fatto che ormai non si sapeva come farne come uscirne da questa cosa Cioè lei l'ha detto pur non essendo vero per uscire prima da quel processo quindi ha mentito ha detto il falso Ho mentito certo ho mentito perché dovevo farlo per forza era l'unica scamotage per uscire da questi 157 giorni inutili di cui mi hanno risarcito